Non solo è un'arma anti-invecchiamento, è utile anche nel trattamento preventivo dei danni neurologici legati all'età e dal morbo di Alzheimer. Parliamo dell'olio extravergine di oliva, le cui proprietà sono state studiate a fondo da due gruppi di ricercatori dell'Università di Firenze. In uno studio appena pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica internazionale, vengono riportate le conclusioni di osservazioni condotte su modelli animali. I studiosi hanno verificato su topi transgenici, portatori delle alterazioni collegate con l'Alzheimer, gli effetti della somministrazione dell'olio extravergine di oliva. Lo studio, finanziato dalla regione toscana, segue e conferma una precedente ricerca su animali meno complessi, i vermici elegans. In entrambi i casi è stata riscontrata una vita più lunga negli animali sottoposti a trattamento, una migliore risposta immunitaria e danni minori causati dalla malattia. La ricerca fornisce una base scientifica per i noti effetti anti-invecchiamento della dieta mediterranea, aprendo la prospettiva dell'uso di oleuropeina glicone, il principale fenolo presente nell'olio extravergine di oliva, nel trattamento preventivo a lungo termine dei danni neurobiologici legati all'invecchiamento ed in particolare al morbo di Alzheimer senile, patologia di crescente diffusione per la quale non esiste ancora una terapia efficace e che pone gravi problemi sociali e di sostenibilità per i sistemi sanitari in tutto il mondo industrializzato.